Lo sapevi che anche i denti possono soffrire il freddo? La sensibilità dentale si presenta come un fastidio, un dolore acuto a uno o più elementi dentali quando si ingeriscono cibi acidi, dolci, caldi, freddi, ma anche quando inaliamo l'aria fredda soprattutto ora che è in verno. Perché i denti sono sensibili? Semplice perché la dentina risulta esposta agli stimoli esterni. Infatti al di sotto della dentina abbiamo la polpa dove al suo interno abbiamo i vasi sanguigni e le terminazioni nervose. Quindi cosa bisogna fare quando si hanno i denti sensibili? Prima di tutto mantenere un ottima i genitorali domiciliari. E qui ve l'ho già ripetuto più volte, lavare i denti due o tre volte al giorno, lo ripasse principali e utilizzare il filo o lo scovolino almeno una volta al giorno che detergono anche la liqua. Mantenere una buona e sana alimentazione. State attenti, cibi acidi e, se potete, aspettate mezz'ora prima di dare i denti. Tutto abbinato a un buon dentifricio che deve essere specifico per i denti sensibili e deve contenere il cuore. Se la sensibilità persiste, il mio consiglio è quello di rivolgersi a un office twist dentale, paradine a un office twist dentale oppure all'odipiagra. Grazie per la visione!